In attesa dell'edizione 2021 il Paese dei Balocchi presenta Fuori Paese, il primo appuntamento in programma per il 7 ottobre. Presidente, di cosa si tratta? Sì, Fuori Paese sono tre eventi che organizzeremo tra ottobre e novembre. Il primo è proprio questo del 7 ottobre dove alle 21 la chiesa del Gonfalone è restaurata, ospiteremo Piero Dorfles, grande uomo di cultura ma anche grande conoscitore di Pinocchio. Quindi ci porterà, ci parlerà della favola di Pinocchio nei nostri giorni. Quindi sarà, verrà intervistato dal professore Sarella Mazzoli, quindi vi aspettiamo tutti a questo evento. E come si fa per partecipare? Abbiamo nella nostra pagina Facebook un numero su cui pronotare perché chiaramente come ormai è diventato riconosciuto il fatto che bisogna avere posti limitati e pronotarli in anticipo, anche se chiaramente la serata è gratuita.